È un'ottava serie molto avvincente, rispetto forse alle ultime due ci sono dei grandissimi colpi di scena che si ricollegano alla quarta, alla quinta serie, alla terza e quindi tutto di colpo assume una luce nuova e quindi in tal senso ci divertiamo da matti a girarlo. La Terra innanzitutto non è un competitor perché rimane nella serie, nel senso che non lascia in realtà, il suo personaggio non viene sostituito dal mio. Io arrivo in corsa e in qualche modo continuo le indagini che lui ha portato avanti per molto tempo e poi si vedrà e vedrete. Di Carlo Nigro possiamo dire che è un vice questore che viene dalla omicidi, che è molto in gamba però ha un piccolo grande difetto, che è una grande debolezza che sono le donne. Sono innamorato di questa terra, trovo che sia meravigliosa, questo lo dicono tutti ma io lo penso davvero. Catania in particolar modo è una bellezza forse anche inespressa per certi aspetti. Penso che come molte città italiane esprime forse un po' meno di quello che potrebbe, però è un posto meraviglioso e con un fascino, una storia incredibile, ogni angolo è una scoperta.